ciao 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 come stai bene grazie sto mangiando tutto bene ah sì sai che ho scoperto che anch'io sono come te ho l'asperger ah ma dai quando l'hai scoperto come hai fatto a capirlo ho fatto l'autotest online su un sito biribicchio5.it biribic non ho mai sentito ma in che senso ti stai autodiagnosticato? eh ho capito i sintomi e quindi mi sono fatto l'autotest e quindi sono anch'io asperger ho capito ho capito ciao buona giornata ciao ciao buona giornata ciao 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 non avevo non capivo non capivo ciao ciao hai bisogno? volevo dirti che i tuoi video sono molto utili che mi sono fatto un'autodiagnosi oggi sono ADHD anch'io ti sei fatto l'autodiagnosi? ma come hai fatto scusa non capisco non capisco e ho guardato due video ho capito che sono anch'io ADHD e quindi ho capito che sono ADHD e praticamente mi sono autodiagnosticato ah ok adesso devi fare tutto l'iter devi andare a farti fare veramente la diagnosi sai come funziona no? devi andare dal servizio sanitario nazionale prendere l'appuntamento hai già chiamato hai già fatto qualcosa? non lo faccio non lo faccio a me basta così con l'autodiagnosi a che mi interessa sapere queste cose? cioè ti sei fatto l'autodiagnosi ma allo stesso tempo non ti interessa sapere se sei ADHD o non sei ADHD ma sì l'ho fatto così per gioco comunque sono anch'io ADHD va bene ok ciao buona giornata ciao ciao ricordo a tutti i gentili utenti che decidono di fare l'autodiagnosi così a mente libera che serve praticamente a zero è praticamente tempo buttato nel cesso innanzitutto perché i test che trovate non saranno mai uguali a quelli che vi fanno gli specialisti perché insieme agli specialisti innanzitutto vi danno dei test validati e che sono specifici che utilizzano loro in modo specifico e poi vi accompagnano alle risposte perché molte domande sono un po' particolari e difficili da interpretare e lo specialista serve lì proprio per dare l'aiuto a capire e comprendere veramente la domanda pensate che a me hanno fatto una diagnosi che è durata praticamente due ore perché proprio c'erano delle domande che neanche capivo e lo specialista era lì apposta per spiegarmi esattamente cosa volevano dire perché veramente ad un certo punto sembravano delle domande semplici ma in realtà sembravano anche addirittura dei trabocchetti quindi in realtà fare i diali test online è tutta una perdita di tempo e serve veramente a ben poco e poi oltre a questo piccolo dettaglio che non è da poco visto che sprecate tempo della vostra giornata e della vostra vita a fare queste cose comunque la diagnosi pubblica è essenziale perché è essenziale innanzitutto per conoscere veramente la vostra condizione questo vi va vi dà la capacità di comprendervi meglio di capire le strategie per stare meglio e nonostante io abbia avuto sempre un buonissimo rapporto con me stessa e abbia sempre adoperato nella vita strategie per star bene vi assicuro che da quando so che ho la sindrome di Asperger e la ADHD nonostante io conoscessi perfettamente i miei modi di fare vi posso assicurare che questa consapevolezza mi ha cambiato tantissimo anche vedere certe realtà e capire come ulteriormente star meglio anche magari confrontandomi seriamente con professionisti poi della salute che mi aiutassero a capire magari come far fronte a certe situazioni quindi insomma conoscere la propria situazione è sempre importante qualsiasi età anche che hai 60 anni è importante sapere la tua situazione oltre a questi piccoli particolari che non mi sembrano proprio per niente da sottovalutare aggiungerei poi un terzo elemento che va a rafforzare queste due realtà di cui vi ho appena parlato anche questo non è da sottovalutare l'importanza di fare delle diagnosi verificate e validate dal sistema pubblico nazionale perché ragazzi purtroppo non voglio portare corna però queste sono delle situazioni che innanzitutto la ADHD al contrario dell'Asperger comunque ragazzi che vi piaccia o no va trattato cioè un minimo va trattato anche semplicemente per star attenti a tenere a bada certi comportamenti diciamo infatti per l'ADHD ci sono i farmaci capisco ancora l'Asperger che uno dice ma a me che me frega sì perché in effetti l'Asperger non devi prendere dei farmaci però per l'ADHD è importante fare anche un trattamento terapeutico con i farmaci quindi questo già è un altro piccolo particolare senza considerare il fatto che dicevo come prima dicevo senza portare corna questi qua purtroppo sono delle situazioni che se non si conoscono e non si sanno gestire possono anche sfociare in peggioramenti in periodi in cui in certe situazioni si peggiora e magari compaiono anche delle comorbidità un po' più complicate da gestire come potrebbero essere forte ansia, forti attacchi di panico certe ossessioni possono diventare più marcate insomma poi le comorbidità a seconda di come riusciamo a gestire le strategie che riusciamo ad adoperare possono intensificarsi come possono tirarsi indietro però questo non lo decidiamo noi quindi per tutto l'arco della vita ci possono essere dei peggioramenti che possono andare a inficiare molto sul nostro stile di vita e sul nostro benessere quindi ragazzi ebbene sì fare il percorso da pubblico è importante perché vi garantisce laddove la commissione medica reputi che questo sia un elemento da considerare con una percentuale abbastanza elevata un minimo di invalidità civile che ragazzi nel momento in cui non si riesce più a lavorare a fare un lavoro di un certo tipo o far fronte a troppe ore lavorative fidatevi che un minimo di invalidità civile fa comodo e ci alleggerisce la vita da pensieri quindi insomma a voi è la scelta se volete continuare a farvi le diagnosi a cazzo di cane online continuate a fare le diagnosi a cazzo di cane online poi magari mi spiegate a cosa serve così prendo nota anch'io ciao 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 ciao